ciao a tutti cari amici di alte montagne e ben ritrovati nel canale con questo nuovo video da vivere assieme oggi una bellissima escursione ad anello che effettuerò assieme all'amico gabriele che mi sta accompagnando in questa avventura siamo qui in valta lagona siamo tra le province di belluno e l'inizio è il friuli sud occidentale per cui faremo bellissimo giro ad anello andremo partiti dal rifugio padova attraverso sentiero 357 andremo verso il campanile di val montanaia per poi rientrare ad anello rifugio padova buona visione fatti bravi mettete un mi piace lasciate un commento se vi è piaciuto il video ma dislivello 900 metri e se non siete ancora iscritti cliccate iscrivetevi cliccate la campanellina per stare sempre aggiornati con le novità ciao a tra poco ciao a tutti 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 eccoci qui dopo circa un'ora di cammino siamo arrivati a questo bivio denominato cadin di toro infatti siamo esattamente sotto gli spalti di toro ok e abbiamo fatto circa 350 metri di dislivello il sentiero è abbastanza semplice ben battuto e non presenta particolari difficoltà necessita soltanto di un po di allenamento come tutti i sentieri di montagna ecco e comunque è una bellissima giornata e tutto procede a meraviglia ecco e adesso andiamo sempre verso il campanile di val montanaia quindi entreremo in friuli per poi per poi rientrare come abbiamo detto col giro ad anello ciao a tutti Grazie a tutti. Allora, pensavi tu di trovare 4 metri di neve? Non semplice, vero? Allora, pensavi? 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 Ecco per dove siamo saliti. E adesso proseguiamo per il sentiero e andiamo verso il bivacco. Allora, pensavi? Perugini? Perugini? Allora, c'è tutto. Ecco qui. Questa sera gli arrampicatori di Valmontanaia riposeranno qui. Ecco l'ultimo panorama dalla croda cimoliana, il bivacco Perugini. E qui alla nostra sinistra, prima il campanile di Valmontanaia e questa è la cima del toro. Non so se riuscite a vedere delle persone che stanno arrampicando in alto. Bene cari amici, proseguiamo il nostro anello, andiamo in chiusura risalendo quella direzione. Direzione Rifugio Padova, ancora due ore e mezza. Ciao! 2332 metri e siamo a farciare la montagna via. Però sta arrivando brutto tempo. Quindi precisiamo i tempi. prima di questo video, E' sulla veve. Ok, ci sono passato su un'altra parte. bella mi sembra ok no, 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 no alla fine del nostro giro siamo qui a rifugio Padova per una breve sosta pronti a riprendere l'auto e una piccola considerazione sul giro di oggi un giro difficile e pericoloso catalogato per escursionisti esperti quindi mi raccomando non avventuratevi se non c'è un'adeguata preparazione fisica e anche dei concetti e consigliamo anche il caschetto ci sono due ghiaioni molto importanti e quindi prestare molta attenzione sono circa 12 chilometri di percorso e un dislivello di 1250 metri guanti ciao